Beni per oltre 1,7 milioni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Siracusa su delega della Procura della Repubblica una banda specializzata in ingenti truffe e danni dell'Inps. Oltre 400 gli indagati tra ideatori della Maxira, giro e falsi e disoccupati. L'indagine è partita dopo un approfondimento condotto dalla Compagnia di Augusta su sei società che, sistematicamente dal 2009 in poi, avrebbero effettuato un numero di assunzioni di lavoratori troppo elevato rispetto al volume d'affari dichiarato. Con la complicità dei lavoratori, la società avrebbero proceduto a formalizzare fittizie assunzioni di lavoro mediante comunicazioni successive inviate all'Inps, al fine di consentire a questi ultimi la percezione indebita delle indennità di disoccupazione erogate dall'ente previdenziale, somme che poi venivano spartite tra i lavoratori e i componenti dell'Associazione. L'operazione denominata Transumanza ha consentito così di individuare ben oltre 400 fittizi assunzioni pari a indennità percepite per ben 1.735.180 euro. I componenti del gruppo criminale, i rappresentanti delle società cartiere insieme agli altri 400 lavoratori, sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dell'Inps.